ariete oggi la luna è di passaggio nel segno con benefici per lo stato d'animo che piega alla positività è un momento addolcito dalle faccende di cuore vissute con una intesa soddisfacente siete vivaci anche nelle relazioni con gli altri tuttavia ancora dovete risolvere qualcosa nel settore lavorativo toro periodo non troppo scorrevole un po scombinato nella gestione del quotidiano le risposte che attendete e soprattutto in ambito lavorativo tardano ad arrivare i programmi in corso faticano a decollare la compensazione giunge dalla sfera sentimentale adesso amplificata gemelli giornata un po movimentata ma in fondo positiva con la luna amica in questi giorni possono emergere conflittualità col partner una lontananza o un dubbio da chiarire cercate di non spazientirvi e date spazio a chi vi circonda senza reagire in modo eccessivamente pungente cancro prevale il nervosismo in questa giornata dalle emozioni sotto tono state attraversando da tempo una fase piuttosto faticosa nella quale molto avete da selezionare e scegliere tuttavia adesso vince l'amore con le influenze benevole di venere che regala tanta tenerezza leone è un periodo movimentato ma meno produttivo è facile scontrarsi con qualcuno per eventuali incomprensioni o divergenze di pensiero tutto ciò rende meno agevoli le questioni inerenti al lavoro ma avete la capacità di infondere energia positiva in ciò che intraprendete vergine in questi giorni venere in aspetto di opposizione vi chiede di mettere in discussione il rapporto con chi amate dovete trovare una dimensione più soddisfacente e chiara per poter proseguire con serenità il periodo vi vede comunque un po appannati e confusi meglio non prendere decisioni bilancia oggi la luna dissonante può inclinarvi a percezioni distorte all'irritabilità le faccende amorose sono oggetto di alcune contrarietà di una mancata intesa però avete una buona evoluzione in ambito sociale lavorativo con alcune risposte positive scorpione fase piacevole per gli incontri le atmosfere sentimentali siete inclini a concedervi qualche piacere in più con una certa autoindulgenza le cose sono meno fluide nelle questioni di lavoro nelle collaborazioni e nelle trattative del momento occorre impegno e perseveranza sagittario la giornata si rivela vivace e vi porta verso il buon umore esaltando il vostro spirito ottimista e solare bene l'andamento delle vostre attività un po meno lo scambio amoroso che adesso suscita qualche dubbio poca consapevolezza oppure una lontananza geografica capricorno oggi la luna in angolazione disarmonica inquina le sensazioni e può sollevare una certa agitazione un breve passaggio che non scalfisce i grandi favori del vostro cielo astrale che rimane espansivo e fortunato novità positive in ambito economico e nel settore lavorativo acquario state vivendo un periodo di ripresa di conferme che vi porta una maggiore soddisfazione generale ottimizzate tutte le questioni che desiderate mantenere o migliorare è il momento giusto per consolidare ciò che vi sta a cuore oggi siete in splendida forma pesci tutto si concentra nel campo amoroso per voi con venere in transito nel segno e in congiunzione con nettuno ma siete cedevoli anche con voi stessi avete voglia di bellezza di gustare i lati piacevoli della vita e di tante coccole chi ha inclinazioni artistiche è profondamente favorito buone stelle 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 Grazie a tutti.